Ciao ragazzi, sono Jill Cooper e ho appena compiuto 50 anni, sì, 50 anni e devo dire, se mi volete guardare, insomma, penso abbastanza di aver addestrato il metabolismo, penso di aver addestrato abbastanza bene il peso, ok, però qual è il problema? Qual è il problema che ci tradisce l'età? È la pelle, la pelle che è l'organo più esteso del corpo, più grande del corpo, più pesante del corpo, l'organo che ci protegge dagli agenti esterni è la pelle, e la pelle invecchia, ok, così, volevo parlarvi di come invecchiare bene proteggendo questo organo importante, cioè la pelle, perché la pelle è quella che ti tradisce l'età, ok, la pelle è quella che ti fa sembrare più vecchia, ok, fra pochissimo, fra pochissimo lancerò una novità, proprio la linea dedicata alla pelle, in particolar modo della faccia, ho anche altri trucchetti, ma un'altra cosa che uso è Be Good, che tratto nella pelle e stimola fibroblasti a produrre più collagene, ho il mio integratore che io assolutamente non posso vivere senza, che è Skin Renew, Skin Renew è un integratore a base di collagene acido ialluronico che prendo 1-2 al giorno proprio per aiutarmi a reintegrare il collagene che non sta più producendo il mio corpo, ok, e poi le creme, le creme che stanno arrivando, ma non sono creme, c'è creme, ci sono sieri, ci sono maschere, ci sono tanti prodotti fatti da madre natura, perché io sono fissata, fissata con i prodotti naturali, perché ragazzi i paraffini ti bloccano i pori, i parabeni possono essere, sono state legate a cattive malattie che non vado ad elencare, o così, il mio prodotto sono 0 paraffini, 0 parabeni, made in Italy, 100% made in Italy, con prodotti naturali, ed è una novità, non voglio ancora svelare, ma tra pochissimi giorni arriverà, lo presenta su HS24, è sul sito colsport.com, e partiamo, perché invecchiare bene e vederti bene nello specchio ti migliora la giornata, e quando la giornata è un po' più positiva, ti viene più voglia di muovere, e quando ti muovi ti proteggi i muscoli che ti aumentano il metabolismo, e il metabolismo ti permette di avere più energia, per muoverti anche per fare le scale, per fare le spese, per giocare con il tuo figlio, con i tuoi nipoti, insomma, è un bellissimo cagnetto che si bacia la coda, non si muorda la coda, si bacia la coda, brava, 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 così, rimanete con me, mi raccomando, seguitemi al canale, iscrivetevi al like se ti piace, e vieni a vedere gilcooper.it, mia web magazine, che è piena di ricette, super sane, super green, per aiutarvi a vivere il più sano possibile, con un sorriso fino a, vogliamo fare 150 anni, ok? 250 anni, vi voglio bene, vi auguro una giornata splendida, voletevi bene, perché siete già perfetti, un bacio dalla Jill, e mi raccomando, tra pochi giorni, vedrete la novità della Jill, proprio per la tua pelle.